Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, 4 km di coda in aumento tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso nord per incidente. Per traffico, inoltre, verso nord, rallentamenti tra Firenze Inferonete e Firenze Scandicci e tra Calenzano e P1 variante, in carreggiata opposta, coda tra Aglio e Calenzano. In A11, coda attratti per traffico tra Pistoia e P11 e A1 e coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipilì, 2 km di coda in diminuzione per lavori tra la Strassigna e Ginestra in direzione mare. Ricordiamo che sono in corso i lavori della durata di 8 mesi circa per il miglioramento della sicurezza sul tratto Montelupo-Ginestra con restringimenti percorsi alternativi SP12 o A11 per i viaggi più lunghi. Sempre in Fipilì verso Firenze troviamo rallentamenti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!